Dal 2013 era tornato nella casa conventuale di Oristano, dopo una ventina di anni passati a Santa Maria di Bethelm, dove era diventato un punto di riferimento del mondo culturale cittadino. Padre Marco Ardu è scomparso giovedì pomeriggio. Un malore improvviso, un infarto, lo ha fatto cadere a terra, procurandogli un trauma cranico e facendogli perdere definitivamente coscienza. A Oristano animava il centro missionario, ma era anche cappellano delle clarisse del monastero di Santa Chiara. Nato a Villa Verde in provincia di Oristano nel 1938, dopo la professione perpetua nel 59, nel 65 era diventato sacerdote, passando poi gli anni seguenti nelle case in Sardegna dei fratti minori conventuali. Arrivato a Sassari nel 94, aveva fondato il centro studio di Santa Maria, di cui era instancabile animatore e promotore di eventi e presentazioni. Aveva pubblicato diversi libri, tra cui quelli dedicati alla storia della chiesa simbolo di Sassari, ma anche raccolti di poesie particolarmente apprezzate. Curava la bella biblioteca del convento, a cui dedicava le ore libere della giornata e dove era facile trovarlo immerso nei libri che sistemava e catalogava con grande attenzione.